Bene, salve a tutti cari amici, bentornati in compagnia di UR86. Oggi vi volevo videorecensire un'applicazione davvero molto interessante, sia per quanto riguarda il panorama mobile, ma non solo. Videorecensione è un'app totalmente gratuita che potete trovare all'interno del Play Store, all'interno dello store di Windows e chissà, forse in futuro, magari anche nello store di Apple per quanto riguarda iOS. L'applicazione è veramente molto molto semplice, l'interfaccia è gradevole perché è facile, da intuire e all'interno di videorecensione ci sono appunto tutte le videorecensioni dei maggiori canali YouTube, come potete vedere sono riuscito ad entrare anch'io sotto il nome di quelli che telefonano .it, ma non solo, come potete vedere possiamo anche trovare videorecensioni per quanto riguarda i maggiori canali del mondo, la suddivisione anche per iOS, tecnologia e giochi. L'app è direi semplicissima, si basa sui feed RSS pubblicati da tutte le varie testate e come potete vedere se entrate dentro quelli che telefonano, ora in questo momento vi ho cancellato tutti gli articoli già visti chiaramente, comunque potete trovare tutti l'elenco delle mie videorecensioni all'interno appunto di quest'app. Non solo, come potete vedere se entriamo dentro Mr. Gadget, possiamo anche andare a vedere i video per quanto riguarda Mr. Gadget. Ogni qualvolta io pubblico un video su YouTube, attraverso videorecensioni vi arriveranno notifiche, quindi sarete sempre aggiornati per quanto riguarda le mie novità sul mio canale YouTube. Potete tranquillamente anche andare a cambiare tema perché abbiamo anche il tema scuro, come potete vedere l'interfaccia si andrà totalmente a cambiare, quindi avremo un'interfaccia più scura, magari bella sugli schermi AMOLED. Possiamo anche andare a mettere tra i preferiti i nostri canali, come possiamo anche andare a vedere in una videata tutti i feed non letti. Quindi insomma una sorta di feed RSS, aggregatore di feed, ma che contempla anche i video, quindi aggrega veramente tutto. Mi sono trovato bene, lo sviluppatore è stato molto gentile ad inserirmi, anche perché guardate i nomi, insomma. Ci sono davvero tutti e quindi sono veramente contento di essere entrato a far parte dell'app videorecensione. Non posso fra l'altro ringraziare lo sviluppatore e quindi ci sentiamo. Al prossimo video mi raccomando scaricatela per il vostro terminale Android. Un saluto da Gwerz86.